...i nostri lavori, chiedo la cortesia ai colleghi che sono ancora fuori di riaccomodarsi in sala e anche alla cortesia ai colleghi di Ispra di aiutarmi a fare virgolette da buttadentro. E da... Signori, riprendiamo. Allora, intanto non so se è stato dato all'inizio dei lavori, ma i colleghi del servizio Web Television, che ringrazio, mi ricordano che devo doverosamente avvisare... Non ci siamo. Signori, vi assicuro che da qui non riusciamo, abbiamo un rumore... La sala è fatta in modo tale, mi scuso, ma vi devo chiedere la cortesia. Stavo dicendo, devo dare doverosamente l'avviso che l'evento è trasmesso in diretta streaming sulla nostra televisione, per cui coloro che non volessero essere ripresi o che non volessero diffondere il contenuto dei loro interventi sono pregati di comunicarlo ai colleghi del servizio comunicazione Web Television, alla dottoressa Montesanti, Cecchini, Pacciani, per l'eliminazione dei contenuti in video e in audio. Detto questo, io voglio dare inizio a questa tavola rotonda ringraziando tutti coloro che fino adesso si sono impegnati con grande competenza, con grande anche spirito di sacrificio su questa materia e su questo argomento così delicato. Ho ascoltato le relazioni tecniche di questa mattina, quindi c'è poco da aggiungere e non avrei tecnicamente nulla altro da aggiungere se non ribadire quanto già veniva espresso stamattina rispetto al valore di questo momento di consultazione. Non vuole essere, non l'abbiamo inteso, semplicemente come l'attempimento rispetto a un obbligo formale. Esiste un obbligo di informazione e lo abbiamo assolto creando questo momento, che peraltro è un momento che dura un mese, come è stato detto. Vogliamo che questo sia un momento sostanziale e crediamo che tanto più ci sia reale comunicazione, reale partecipazione su queste esperienze, su questo progetto, tanto più si possono ottenere i risultati sperati. Non c'è possibilità di ottenere un risultato considerevole senza che ci sia un coinvolgimento in termini qualitativi e quantitativi dei cittadini che, come è stato detto anche nell'intervento di stamattina, e vorrei ricordarlo a me stesso e a tutti noi, costituiscono il vero target di tutta questa operazione e come costituiscono il vero target di tutta la nostra azione di ogni giorno. Noi non siamo amministrazioni o istituti tecnici di ricerca che lavorano solo per dare dei prodotti tecnico-scientifici ad uso e consumo degli addetti ai lavori, non dimentichiamocelo. Noi siamo istituzioni ed enti pubblici e quindi abbiamo il dovere e anche il diritto, per certi versi, di considerare il cittadino, anche quello che non è tecnicamente preparato, come non lo sono io, in questa materia, ma abbiamo il diritto e dovere di dare un'informazione corretta e di raggiungere tutti i cittadini come destinatari della nostra attività di ogni giorno. Per questo va anche il ringraziamento. Non è sempre facile coniugare valore tecnico-scientifico del nostro lavoro a una dimensione di comunicazione e di informazione adatta a raggiungere il semplice utente. Lo vedremo in qualche modo dai questionari che, come voi sapete, sono stati articolati su due livelli. Un livello, diciamo, rivolto al grande pubblico, ai non addetti ai lavori, e poi un secondo livello invece rivolto in qualche modo alle persone che sono più addentro a questa materia proprio per testare anche il grado di conoscenza e vedere dove dobbiamo intervenire in questo proseguo di cammino verso l'attuazione della direttiva, della strategia marina per migliorare l'aspetto di informazione e di comunicazione. Un'ultima notazione e poi una considerazione metodologica. è stato già detto stamattina anche dal sottosegretario Velo che voglio ringraziare per la partecipazione e anche per l'attenzione con la quale, anche al di là della delega di funzioni conferitele dal Ministro, sta seguendo la passione e la competenza con la quale sta seguendo questa materia. Peraltro posso tranquillamente svelare che il nostro sottosegretario ha una preparazione tecnico-scientifica, una formazione tecnico-scientifica, è un chimico e quindi segue con attenzione anche tecnica e con cognizioni di causa il nostro lavoro. Ma stavo dicendo che la strategia marina sarà un'asse fondamentale nella vita del Paese per i prossimi anni a prescindere dai tempi tecnici della sua attuazione prevista da normativa comunitaria. Quindi è un lavoro che noi abbiamo cominciato come diceva il collega Montanaro che ringrazio anche insieme a lui colleghi della direzione protezione natura e anche Renato Grimaldi, il direttore che è impegnato su un altro tavolo e lo devo raggiungere tra qualche minuto e abbiamo una vicenda da seguire insieme. Volevo anche ringraziare perché non è stato facile cimentarsi comunque in un contesto così ampio anche di concertazione in qualche modo tra varie amministrazioni pubbliche e locali e trovare i punti di sintesi non è mai semplice sentire tutte le diverse campane e trovare anche il punto d'incontro delle diverse esigenze. Quindi un lavoro veramente importante che però non rimane fino a se stesso e non rimane circoscritto per quanto riguarda almeno Ispra durante il mandato del Presidente mio non rimarrà circoscritto nei termini di stretta attuazione della direttiva stessa. Come svolgiamo questa tavola rotonda? Siccome speriamo che ci sia il massimo dell'interazione possibile io cederò, insomma dovrei svolgere in maniera un po' dinamica cederò la parola ai rapporter per ogni singola piattaforma è stato detto stamattina che sono state create otto piattaforme all'interno delle quali sono ricompresi un insieme di descrittori che poi sono indicatori dello Stato attualmente della situazione del mare in Italia e che poi costituiscono anche i punti di partenza per le previsioni future darò la parola ai quali darò e sarò a chi mi conosce e sa che sono rigidissimo quando modero le tavole rotonde sui termini perché poi non possiamo rischiare di appesantire l'uditorio darò ognuno di voi 5 minuti per la presentazione e al termine della vostra presentazione poi apriremo il dibattito adesso vediamo se ci sono domande alla fine di ogni descrizione scusate di ogni intervento sulle singole piattaforme ovvero alla fine o potremmo fare anche l'una e l'altra il tutto per contenere questa tavola rotonda in non più di 60-70 minuti e terminare negli orari che ci siamo prefissati allora grazie ancora per l'attenzione comincerei con la piattaforma 1 e darei la parola al collega Rinaldi per la presentazione della piattaforma la preghiera è quella di rispettare i 5 minuti ma ripeto lì poi interverrò in qualche modo io grazie bene intanto buongiorno a tutti ovviamente ringrazio anche perché personalmente calveggio queste iniziative che sono stato più importanti perché la consultazione vuol dire partecipazione e condivisione è fondamentale nel senso di Nassume soprattutto su questi tempi quindi è arrivato nel caso tecnico riuscire ad avere non solo i comporti ma i comporti è un principio per rispettare il sacro santo voglio dire un'altra cosa di carattere generale come ho già ricordato di chi ha un altro po' di tutti fa la storia di questo paese ha portato già con un mano con tanti approcci un seno al principio dell'autoraggio per rispettare la 979 la norma la logica per la sua applicazione per quanto riguarda l'autoraggio sostituita e si ha limitato con una direttiva ague quindi con i controlli che viene effettuati nella fascia quindi voglio dire c'è un livello di concentra che non ci fa partire dal zero partiamo da un livello diciamo abbastanza alto di conoscenze soprattutto di procedure che dovrebbe soddisfare l'esigenza di questo di questa io la difesco sfida che è la strategia dell'allina tanto pensate solo che questa serenatoga che viene condivisa e realizzata da tutti gli stati dei tedeschi che ha un carattere di particolare realizzazione soprattutto sulla salomare della futura del mare delle sue risorse caro caro diciamo sulla piattaforma 1 con l'onore di fare un impegno abbastanza pesante ma che ha dato di molte soddisfazioni a me e a me che ho cercato di coordinare da questo lavoro e tutto fuori il piano dottoraggio che io consiglio di valore mi stesse partecipare a questo lavoro quando gli studenti generali condiviso devo dire che ci sono state discussioni a volte anche altre non più tanto però hanno portato richiesta alla decisione assolta perché ovviamente quando l'interno dei gruppi di questo genere si hanno diciamo anime diverse da quelli che fanno il monitoraggio quindi in un ruolo tecnico da quelli che ovviamente vedono la cosa sotto una faccettatura scientifica vedi questo sistema che sono stati eccetera e quant'altro una volta si trovano le condizioni devo assumere le decisioni decisioni che a grandi linee devono essere quelle che caratterizzano i piani di monitoraggio che non sono piani di ricerca che c'è la scienza che ha aiutato ad essere fortemente per quanto riguarda la nostra piattaforma noi abbiamo organizzato come sapete tra mafitto il proclanto e il tetonica anche altre questioni queste problematiche sono realizzate e avere buoni rapporti benefici anche questioni come per esempio le autosignazioni tramite al pelagico quindi anche gli svettori e gli centriere e le microplatte quanto riguarda l'attività del filtro planton e barra e l'introfinazione subiamo anche questo tanto abbiamo cercato di ragionare sul grado tropico presente nei mali italiani e questo è emesso cosa sapete abbiamo un livello di estrofia e l'esotrofia nell'alto avriatico anche se l'ultimo decennio si è ridotto rispetto alle condizioni degli anni 70 e 80 a seguito di una serie di attività e interventi attuati mentre una parte dell'adriatico meridionale nella parte ionica e tutta l'area terrenica e l'olivore abbiamo condizioni prevalenti vi invito a considerare questo termine prevalenti di oliotrofia poi sappiamo benissimo che abbiamo anche in queste aree degli otto spot delle condizioni in cui possiamo avere dei periodici eventi impennata della biomassa 70 antonica quindi dell'altro che ovviamente devono essere considerate tanto ecco all'unice di questa considerazione abbiamo ragionato sui tempi diversi per quanto riguarda il calendario dell'attività del monitoraggio abbiamo ragionato sui transetti da effettuare in ogni regione in funzione per l'orbenza della linea di costa abbiamo ragionato anche sul monitoraggio costiero e sul monitoraggio pelagico e dire quello che arriva fino alle acque territoriali alla distanza da costa di 12C credo che una cosa importante viene lasciata molta autonomia proprio internazio di questo piano che è già scritto per lo studiato alle regioni o ai loro organi di riferimento ma alle regioni primis per quanto riguarda le varie approfondimenti su aree come dicevo di ottesport aree di interesse ambientale particolare le aree marine protette quindi credo che non mancchi nessuna opportunità che opera sui rispettivi territori per fare approfondimenti agli approfondimenti che ritiene opportuni oltre a questo è stato educato anche il tema ovviamente degli abiti appelagici perché questo è insito per tentare il metolaggio soprattutto quando si fa filo del plant ma di abiti che stanno in mare aperto e sulla colonna d'acqua lo stesso vale per gli specialiere per quanto riguarda questa piattaforma come le performe che non dà il conto di natural attraverso retinate nelle aree a rischio che sono le aree poltuali per avere individuali e talmente l'arrivo che si spinge con i denti e altri mali è solo un aspetto dell'esercizio e quindi sono altre questioni che tornerà un altro che un precipito proprio su popolamenti insediati come è l'ultimo che si possa interagire con la fauna autonica e poi è una cosa molto importante che credo stia apprendendo un po' tutti che praticamente la considero un'emergenza incombente che è quello delle plastiche della plastica in mare che è un'emergenza purtroppo questi composti hanno una vita lunghissima e qui tendono a rimanere tra quali per molti e molti anni stanno in un incidente in maniera molto severa con gli abita con la fauna di contatto senza qui tirano fuori le questioni che toccano il cuore gli ucciari marine i tartarughe i perfidi che sono le prime vittime di queste prese per sé dove tutti sappiamo che è un'emergenza che va senza altro controllato e fino ad oggi non l'abbiamo fatto soprattutto sulle microplastiche ci stiamo apprezzando con reti particolari come si dice retinia manta che vengono trinati le imbarcazioni abbiamo già fatto degli esercizi importanti in tutte le regioni del nostro paese legate alla copertura delle gradi di nonconoscenza che avevamo più o meno tra i temi ci devo dire che siamo riusciti a mettere in piedi il metodo il sistema tutt'altro i risultati necessari e fornire le prime indicazioni poi dubbiamente sulle microplastiche credo che ci sia e sulle plastiche in genere che consideriamo che dobbiamo uscire anche le microplastiche importanti e le microplastiche è importante per quanto riguarda questa prese fra foro vi chiudo il tema dell'agito in microplastiche non viene affrontato solo a livello di microplastiche quindi quelle che raccoglie con retini adeguati ma anche quello delle spiagge o dei materiali spiaggiati ogni ragione dovrà intervenire su aree patologiche e su aree bianco e qui c'è una straordinaria condizione condizione che in genere le aree bianco sono quelle che presentano meno presenze di un determinato cliente succedono proprio per quello per confrontarle sul caso delle plastiche prodotte sui spiagge le aree bianco sono quelle che hanno più materiali speciali perché perché quelle autorizzate sono produiti per sui turisti le aree remote cosiddette le aree padre e così via hanno assicuro anche la nostra risoluzione hanno due spalle di passi che non sono state sui spiagge perché ovviamente non siano frequentati quindi non sono ammazzate quindi questa è una cosa dobbiamente interessante se la guardi o voi è vero grazie 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 al collega Rinaldi io se siamo d'accordo farei due o tre presentazioni poi vediamo se ci sono domande anche per non rompere il cosiddetto ritmo degli interventi di presentazione quindi immediatamente la parola al collega Leonardo Tunesi per l'intervento sulla piattaforma 2 che concerne scusate prima avevo dimenticato di dire che la piattaforma 1 a cosa si riferiva la piattaforma 2 concerne l'abita del fondo marino e la biodiversità evidentemente si tratti di tutti argomenti interconnessi come sanno anche gli addetti ai lavori lo dico solo perché ci dovesse seguire o chi non fosse così addentro alla materia grazie grazie sempre 5 minuti per cui i colleghi di Ispra addirittura 30 secondi in meno grazie buongiorno a tutti cercherò di essere molto rapido anche se il programma 2 e la piattaforma 2 in realtà è uno dei più ricchi e più articoli in assoluto perché in realtà affronta sia gli aspetti degli abiti del fondo marino e della biodiversità ma in realtà adesso afferiscono l'insieme delle attività per quanto possibile diciamo organizzabili in modo comune di ben tre discrittori il discrittore 1 biodiversità il discrittore 2 per le specie non indigene in pratica quindi NIS e il discrittore 6 che in pratica è fondamentalmente costituito dall'impatto dell'abrasione sui fondali quindi gli habitat dal punto di vista diciamo di quello che è l'impatto antropico nell'insieme l'obiettivo di questi programmi di attività funzionali poi a definizione di programmi di monitoraggio comuni era quello di identificare appunto delle famiglie di attività di campionamento che potessero essere poi utilizzate per fare in modo che chi poi andrà sul campo per raccogliere i dati lo possa fare raccogliendo più dati afferenti anche ad argomenti diversi in modo da ottimizzare le attività di campionamento i costi e l'impegno umano nell'insieme per quello che riguarda la componente più strettamente biodiversità vedete già subito il fatto che la cosa è molto articolata perché non ci sono soltanto i fondali marini ma anche quindi caratterizzati in questo caso anche poi dalla voce ventos presa sia come tipi di habitat sia come specie che vivono sul fondo ma poi abbiamo anche la fauna etica e soprattutto componenti molto diciamo importanti e famose che potrebbero essere appunto che sono i mammiferi e i retini marini e la bifana non li stiamo usando un altro aspetto molto importante un altro aspetto molto importante scusate è quello che in realtà il frutto di queste piattaforme le attività condotte con queste piattaforme in realtà sono stati in pratica il frutto il distillato di tutta una serie diciamo di collaborazioni strette e di coordinamento tra i principali enti di ricerca nazionali ma anche e soprattutto le agenzie regionali e qui vediamo la lista degli enti delle strutture che hanno avuto modo di essere coinvolte direttamente dal ministero in questa attività diciamo di sviluppo dei prodotti delle piattaforme e questo è una componente che ha caratterizzato l'attività di tutte le piattaforme con una forte presenza sia del sistema del servizio sanitario nazionale sia del sistema delle agenzie che ha visto un rappresentante delle diverse ARPA per ognuna delle sottoregioni perché va detto che tutto questo tipo di attività è stato sempre pianificato ragionando seguendo le logiche della strategia marina che vede l'Italia impegnata su tre bacini il bacino occidentale il centrale e l'adriatico quindi per ognuno di questi sottobacini in realtà per questi subpesi in realtà diciamo c'è stata anche una collaborazione diretta come testimoniato poi anche dalla presentazione diciamo del dottor Rinaldi per la componente della piattaforma 1 dove in pratica le realtà locali e regionali hanno portato la diretta esperienza di quelle che sono proprio le caratteristiche anche oceanografiche del bacino beh diciamo che questo molto rapidamente per dare un'idea di quello che è stato il tipo di approccio con cui si è affrontato ogni argomento fondamentalmente le attività di monitoraggio hanno due principali obiettivi quello di andare a colmare dei gap informativi non dimentichiamo che la strategia marina nelle sue diverse fasi già superate tra virgolette già affrontate articolo 8 9 e 10 per noi che ci lavoriamo nell'articolo 8 l'initial assessment in pratica è stato previsto un impegno molto forte a livello di comunità nazionale per riunire tutte le informazioni disponibili sulla base di questa analisi delle informazioni disponibili sono stati identificati in realtà dei gap conoscitivi che in alcuni casi sono stati ritenuti molto importanti per cui uno dei primi obiettivi di queste attività di monitoraggio delle piattaforme quindi è quello di identificare gap che dovranno essere diciamo colmati il più presto possibile con il primo avvio dell'attività di campionamento e oltre a questo poi invece è stato importante anche ragionare su delle attività poi di studio che dovranno consentire il monitoraggio per cui ecco è giusto per questo era giusto un commento per dire quindi a livello dei popolamenti dei fondali bentonici l'attenzione è stata posta poi su alcuni alcuni popolamenti in particolare qui ad esempio i corali bianchi profondi con potete vedere qui i gap informativi che si ritiene importante poter colmare e le attività previste ma anche il coralligeno che è un habitat di particolare importanza con le sue diverse diciamo componenti e facces perché tra l'altro è anche rientra nella più ampia categoria identificata dalla direttiva habitat come Rocky Reefs ed è molto importante anche perché è una componente diciamo di componente organogena diciamo di produzione diciamo biologica quindi una forte componente costituita da biocostruttori che quindi è molto importante anche proprio come hotspot della biodiversità e non poteva ovviamente mancare la considerazione nello studio diciamo della posidonia oceanica che è habitat peraltro prioritario per la direttiva habitat cioè habitat per il quale vanno anche istituite aree specifiche misure di protezione per la salvaguardia le attività previste le vedete diciamo poi faccio giusto una carrellata per rispettare i 5 minuti un altro habitat per quello che riguarda i fondi mobili che è tutto molto importante anche perché evidenziato dalla comunità europea è il fondo Amair cioè un fondo diciamo seppur mobile costituito diciamo dalla presenza diciamo di rodoliti di alghe calcare che sono in grado in pratica di caratterizzare completamente i fondali del detetico costiero delle acque più costiere sono state prese in considerazione anche determinate facce dei fondi mobili perché la strategia marina prevede anche diciamo di studiare quelli che vengono chiamati i predominant habitat cioè prendere in considerazione anche degli habitat per i quali che caratterizzano poi la gran parte dei nostri fondali e sui quali poi generalmente si va a esercitare si vanno a esercitare quelle azioni di impatto di cui al descrittore 6 cioè di abrasione che vanno monitorate e studiate in maniera opportuna per poterle poi eventualmente meglio regolamentare abbiamo previsto anche due specie protette lo studio diciamo di due specie protette molto importanti per la direttiva habitat che sono in particolare per quello che riguarda sulla sinistra la patella ferugina che è una delle specie più in pericolo del Mediterraneo il Mediterraneo occidentale è una specie endemica quasi completamente estinta per cui diciamo questi dati peraltro vanno raccolti anche dall'Italia nel quadro delle informazioni che vanno raccolte per la direttiva habitat per cui era molto importante prenderli in considerazione si sono presi in considerazione in questa piattaforma anche le specie non indigene indigene con due componenti in particolari quelle di tesa a identificare aree maggiormente sensibili perché potenzialmente a maggior rischio di introduzione con tutta una serie di attività di monitoraggio in pratica quasi in tempo reale perché la cadenza prevista è dell'arco di qualche mese e poi anche per vedere diciamo di valutare con appositi studi quello che è l'impatto che alcune di queste specie non autotene diciamo una volta si chiamava aliene queste specie non indigene possono portare ai popolamenti e alle specie invece mediterranee autotone per quello che riguarda la fauna itica particolare attenzione sarà prevista diciamo all'uso fauna itica studiata non come componente pesca diretta di cui al descrittore 3 diciamo ma come componente biodiversità delle acque costiere lo studio la metodologia utilizzata proposta è quella che viene utilizzata ovviamente nell'area maniera protetta il censimento visuale in immersione questo tipo di metodologie verrà applicata però soprattutto al di fuori dell'area maniera protetta considerando queste ultime come riferimento come realtà a cui se possibile far tendere soprattutto per quella che riguarda la realtà della fauna itica nelle zone C delle aree maniera protetta dove c'è il prelievo ma opportunamente regolamentato per fare in modo che una buona gestione delle attività di prelievo si verifichi a livello di tutte le coste italiane con una componente anche diciamo opzionale dello studio diciamo anche del DNA che è stato ritenuto molto importante e in questo momento però valutato come opzionale verranno studiati poi anche mammiferi e rettini marini soprattutto mediante approcci diciamo attività di studio ad ampio spretto potenzialmente con metodologie diciamo di rilevamento aereo e realizzate metodologie e attività di campionamento in coordinamento con gli altri stati che si affacciano sugli stessi bacini in modo da poter avere dei dati che siano completi e a questo punto validi per i diversi sub-basin per la vifauna marina ci sono determinate metodologie specificatamente messe a punto in aree dove delle specie di avifauna marina di particolare importanza per la conservazione sono presenti soprattutto nel bacino nei diversi bacini italiani ecco fondamentalmente questa era la carrellata su quello che sono diciamo le componenti della piattaforma 2 grazie ottimo grazie grazie al collega alcune esi io continuerei perché stiamo prendendo ritmo ancora non ci siamo proprio di 5 minuti ma stiamo prendendo ritmo e invertirei leggermente il programma perché ci sono una serie di piattaforme su cui in qualche modo relazioneranno i colleghi del ministero dell'ambiente in particolare la 3, la 4 e la 5 mentre invece dove ci sono previsti interventi di altri colleghi chiederei già ai colleghi di intervenire quindi per quanto riguarda la piattaforma 6 che contiene anche il descrittore 9 ci darei la parola alla dottoressa patriarca che ringrazio per essere qui il descrittore non li ricordo a memoria il programma 6 concerne le condizioni idrografiche grazie no allora scusi sì sì allora il descrittore concerne contaminati nei prodotti destinati al prossimo passato è il programma 5 allora il programma 5 chiedo scusa io perché è difficile riuscire ok grazie buongiorno a tutti io sono il suo segretario dottor Saccini che è stato il capo fila di questo gruppo di lavoro e dottor Saccini è un quadro che appartiene al dipartimento di sanità pubblica veterinaria di sicurezza alimentare del distrito superiore di sanità e quindi poi è rivolto e sono rivolto in questa attività in virtù dei compiti istituzionali che il distrito svolge i compiti del Ministero della Saúde per quello che riguarda il monitoraggio dei contaminanti negli alimenti quindi questo si inserisce nel quanto è stato già menzionato e cioè che nell'ambito della società di Piermanina si è cercato di individuare una massima possibilità di sinergire tra le attività che causano una cosa che sono diversi enti e strutture a livello nazionale in modo da possibilitare la quantità di informazione che possa essere estratta dalle stesse attività e quindi approfondire quale sarebbe che riesca naturalmente il suo gruppo di lavoro ha potuto appare la collaborazione di importantissimi colleghi che hanno portato la competenza sullo schietto di affetti ambientali che inizialmente non ha patrimonio del dipartimento di carità pubblica veterinaria e quindi il protaglio del forismo del CNR delle cabinerie dell'ISPA delle ARPA del MARTMAN e dell'INVAS l'obiettivo di questa piattaforma è stato quindi quello di acquisire informazioni sui contaminanti nei prodotti della pesca destinati a consumo umano che quindi contestualizzano nell'ambito dell'aspetto della protezione dell'ambiente marino e ai fini di questa attività è anche scelto di utilizzare come indicatore la frequenza di superamento dei limiti imposti dal regolamento della Commissione Europea 1881 che fissa i limiti dei penori massimi di alcuni contaminanti che sono metalli policipici aromatici IPC bi delle ossine nei prodotti per il consumo umano quindi nel gruppo di lavoro come merce naturalmente la necessità di riuscire a mettere insieme attività che nascono con penalità diverse perché uno dei punti principali è quello che il prodotto scato destinato al consumo umano e quindi il piano di campionamento che lo riguarda è naturalmente diretto a campionare quelle specie che hanno un maggiore impatto sul consumo umano come in quelle che sono mangiate più spesso più presentemente non necessariamente queste specie rappresentano i doni comunicatori quando si vuole valutare la qualità dell'ambiente marino e quindi si è dovuto tra il confronto e le competenze diverse arrivare a scegliere delle qualità e delle tipologie di pepe marine che potessero corrispondere ad entrambe le esigenze l'altro aspetto che è appunto a caratterizzare lo nostro confronto è quello della priori preferenzialità mentre l'aspetto critico quando si parla di strategia marina nell'aspetto del piano dell'onorario nazionale degli alimenti non ha questa criticità in quanto il campionamento viene fatto direttamente nei punti di vendita e quindi perde un connotato specifico di preferenzialità a una particolare zona destinata questo ci ha condotto quindi a valutare la possibilità di organizzare un piano di monitoraggio che tenga conto di queste difficoltate in termini di specialistiche da monitorare sia in termini di attività che devono essere comportate con le carrikanerie in modo da occupare monitoraggio direttamente sul pescato se non proprio a bordo di determinate imparcazioni alcune delle quali possono essere in l'ambio di applicativi che sono già in piedi e per quello che riguarda i contaminanti come ha detto la direttiva di regolamento di rosa d'altruno che accopre i metalli di petanzi quindi il camion il piombo e il mercurio e per quello che riguarda il camion voglio anche dire che proprio qualche giorni fa è stata un rimendamento di questo regolamento di roveo che modifica proprio per il cambio alcuni di questi inelipro che ho necessato e quindi bisognerà tenerne ovviamente a punto mentre quello che comunque abbiamo stessato anche questo in considerazione che ci sono anche altre sostanze parte appunto di metà di tanti di IPA e le biossine di CP che sono comunque oggetto di preoccupazione o di interesse ma per i quali non sono stati ancora fissati limiti per il motivo che è per usare approfondire lo stato della questione quali la zenni quali i flugli italati e su questi gli ha proposto un inserimento sui programmi di ricerca grazie 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 alla dottoressa patriarca grazie ovviamente ai colleghi che sono stati coordinati dal dottor Stacchini per questo lavoro assolutamente interessante io proseguirei prima di dare la parola ai colleghi del ministero con la piattaforma 7 c'è il collega non è venuto e allora dobbiamo in questo modo diciamo riaffidare allora facciamo così per dare anche un po' di brio ci sono domande su questi primi tre indicatori sì allora sulle domande domanda secca non interventi in modo che diamo la possibilità di un botto e risposta quindi premessa domanda seguiamo il metodo parlamentare due minuti per la domanda massima e due per la risposta prego metodo metodo mio è stato che sono i governanti del servizio con la azione attualità di e a prego domanda la prima è perché già in fase di costituzione dei sette gruppi di lavoro non sono stati inclusi di ste comprens cioè dove i rappresentanti del tipo faccio degli esempi assoporti di d'arma o cose sono prima conoscenza coinvolgendo gli operatori privati faccio un esempio di quanto mi è capitato recentemente un operatore privato mi è chiamato in merito al rivelaggiamento dei segnalatori di sicurezza navali parlo dei famosi finanzi e candelotti che stanno una lacuna normativa e poi non so non è trattato di posto non essere trattati né come infiuti né come quant'altro e di questa sostanza ce ne sono tonnellate che molto spesso la parte di finanza rimviene fuori del mare e però questo problema che è stato cercato di portare a conoscenza dell'insterio dell'interno e anche l'insterio dell'ambiente non è mai stato trattato non so se può rientrare in un all'ist quindi adattato di questi materiali se ne trovano certe volte nei cassoletti con evidenti pericoli per le persone o addirittura appunto sul fondo normale come sempre evidenti pericoli perché sono anche ancora materiali che possono essere peligrosi grazie bene grazie la domanda è molto chiara se c'è un altro intervento poi diamo le risposte qualcun altro che vuole chiedere qualcosa tutto tace allora cominciamo con queste prime due risposte prego il collega rinaldi e poi vabbè tanto di rena si deve si deve alzare adesso si alza dopo cominciamo da rinaldi così spiazzato dalla tanto non rispondo io perché lei è una tecnica è un problema che c'è non mi confondo adesso io ho una piccola barchetta nel porto che quando devo cambiare i ranzi che vanno dal negozio e solo alcuni prendono dietro i vecchi li prendono vabbè l'ho detto solo alcuni li prendono e non che c'è più ma adesso li teniamo lì molti pescatori li usano per le festi in realtà deve garantire per 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 quanto riguarda questo tema devo purtroppo portare l'attenzione sul programma 4 quello dei contaminanti identari più idoneo rispetto al fito del planto purtroppo ci sono quei colleghi del ministero che faranno una carrellata sulle altre piattaforme se mi è consentito vorrei solo fare un appello che in questo le notizie sarà l'iniziativa per quanto riguarda sotto le zone ideatiche che direi ai referenti nel lavoro per quanto è possibile di partecipare se non possono direttamente loro come referenti delegare qualcuno a sostituirlo già faranno un temato in vera al collaboratore con una cosa analoga e poi questa realtà montone con poche voci diventa abbastanza per quanto è possibile c'è un qualcuno può differire non farà un motivo di persone per quanto sia un'attività per i valori anche per i voli non sarebbe inserita che subito dopo si adesso poi sui prossimi appuntamenti richiamiamo allora invece per le altre risposte di competenze del ministero chi vuole rispondere tra i colleghi io volevo poi lascio la parola al dottor Montanaro per la questione diciamo della composizione dei gruppi di lavoro che mi sembra una questione più istituzionale per quanto riguarda i razzi io pregherei però di non confondere tra quelli che sono dei comportamenti virtuosi e quelli che sono dei comportamenti colposi cioè buttare nei cassonetti i razzi o buttarli in mare è comunque un comportamento colposo che va penalizzato è un reato detto questo il ministero sono anni che lavora sono anni che so che la direzione competente che è quella sui rifiuti e le bonifiche sta lavorando sull'argomento insieme alle capitanerie di porto a me risulta che stiano lavorando poi se lei ha maggior importanza perché sono stato contattato non può essere una polemica perché un rappresentante di un'azienda che si occupa di questo materiale non sa cosa va perché vanno in seri degli interni e rispondono che è un esclusivo vanno in seri dell'ambiente e rispondono che non è un rifiuto non è categorizzabile come il rifiuto è vero che lo dice lei è un comportamento corposo ma è vero che se la cosa non è formata il cittadino non sa cosa fare la pacchetta del dottor rinanti il dottor rinanti forse non avrà un comportamento corposo ma ha un'altra persona che queste cose non sa come smaltire perché non c'è una normativa è perché il cittadino viene mandato a destra e a sinistra perché uno dice di me con Teresa e l'altro risponde nella stessa maniera a questo punto non sa cosa fare ecco che la guardia di finanza ogni anno di assurdo circa 500 tonnellate di questa lotta dei fiumi del mare le farò a vedere i filmini e i documenti mi pare che sia molto scusi dei singoli utenti credo che ci sia un'esigenza sull'esigenza credo che ci stia lavorando comunque il ministero se ci sono diciamo delle situazioni che possono essere segnalate e migliorate proprio per colmare queste situazioni lo facciamo magari anche parlando dopo con i colleghi se no diventa una sorta di 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 interventi singoli allora su questa questione se la dopo ci sono i colleghi magari potranno essere definita in modalità anche eh di scambio di di come dire di interlocuzioni o anche di contributi in modo che possiamo si possa farsene carico anche tramite i nostri rappresentanti per intervenire da un punto di vista normativo visto che l'esigenza c'è però vi prego darei quest'ordine anche metodologico non voglio ecco ripeto tacitare nessuno ma evitare che si trasformi in un in un in un duetto sostanzialmente dopo dopo se riguarda questa cosa allora battuta finale però perché sennò si lega alla prima domanda cioè perché nei gruppi di lavoro non sono stati e questo 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 un discorso del genere sarebbe affiolato non so se c'era la risposta che era da parte del collega Montanaro quindi gli affido subito il microfono innanzitutto dobbiamo un attimo chiarirci no era prima era scusa sui limiti di questo processo i tavoli sono stati creati per strutturare i programmi di monitoraggio non per fare un'analisi delle problematiche anche normative o operative che riguardano il mare perché altrimenti sarebbe stato un processo molto diverso detto questo non è che non sono stati coinvolti gli stakeholder gli stakeholder sono innumerevoli di vario tipo di varia rilevanza da nazionale al locale e quindi abbiamo pensato e ne siamo convinti che la cosa migliore fosse presentarli già una proposta che non fosse chiusa ma che comunque avesse già una sua strutturazione logica e plausibile e su questo poi far intervenire gli stakeholder con vari metodi proprio perché questa proposta venisse commentata partecipata e modificata che è esattamente la logica della consultazione pubblica e della partecipazione popolare questo si farà in vari modi appunto dal questionario che adesso poi vorrei presentarvi perché su quello che poi mi piacerebbe avere delle domande delle risposte dei chiarimenti dei confronti con gli eventi di cui questo è il primo che soprattutto a livello poi diciamo di sottoregioni serviranno proprio a dare la possibilità e voce a quelle che sono le specifiche esigenze delle aree su cui poi incontreremo i nostri interlocutori perché magari a Cesenatico ci sono delle problematiche diverse da Livorno e diverse da Palermo e terza cosa noi già con le regioni abbiamo attivato da un anno un'attività diciamo sperimentale di attuazione di programmi di monitoraggio in cui abbiamo coinvolto proprio come interlocutore di riferimento socio-economico Union Camere quale ente esponenziali di quelli che possono essere gli interessi socio-economici proprio per poter tener conto anche di questo aspetto però essendo un processo molto complesso essendo un processo molto in fieri se dall'inizio facciamo partecipare tutti a tutto corriamo il rischio di impantanarci in un processo enorme che non ci porta da nessuna parte quindi abbiamo fatto delle scelte di organizzare per fasi e per moduli questo processo ma con il risultato finale come dicevo nel mio intervento proprio di avere un risultato che è partecipato e condiviso perché altrimenti saremmo noi primi ad essere delusi di questo risultato a questo punto con l'aiuto del dottor Tunesi volevo proprio fare questo quasi esperimento con Durvi insieme scusate è vero che sono un moderatore flessibile per un minimo di ore ci sono ancora tre descrittori abbiate paziente li vogliamo trattare o li vuoi trattare dopo non li trattiamo proprio perché non abbiamo modo di dare degli approfondimenti almeno come diciamo relatori e capotecnici allora aspettate che c'è una domanda da parte del collega Gian Grasso dopodichè apriamo sulla consultazione io vi dico che poi alla fine che poi alla fine pregherei i colleghi del ministero insieme alla collega Morro Emi date per favore poi voi notizia degli altri eventi insieme tra degli altri eventi di consultazione nei prossimi giorni prego Buongiorno Giorgio Grasso il ministro e non mi spiego che non viene presentato il programma 4 di un'attività di un'attività però voglio segnalare una cosa con l'obbio di cui non giro e qui si parla degli effetti di un'attività 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 e in particolare sui cedenti allora io sognavo che c'è un argomento con cui stiamo sbattendo le corna da anni e che sono gli annissimi su questi evidenti sui cedenti concentrazione di soglia limiti di confronto che madre come volete qui poi dall'altro il problema è amplificato dal fatto che questo programma 4 deve considerare anche un'attività da fonte fioriani fonte fioriani significa un'altra drammatica carenza sono i miei sui suoni agricoli che anche io non ci abbiamo allora queste due cose limiti di annissimi o concentrazioni di soglia sui sedimenti limiti di annissimi di sui suoni agricoli sono argomenti con cui sbattiamo la testa da anni le motivazioni per cui questi limiti e questi tabelli non ci sono sono molto chiari anche ai non maliziosi però credo che questa forse è l'occasione giusta per farlo perché se no lo devono avere la tante di tosta senza alcuni di annissimi di sui sedimenti risolveri i coni senza alcuni di annissimi quindi mi chiedo anche come chiusura della domanda il monitoraggio rispetto a che lo facciamo monitoriamo i contaminanti i sedimenti di agronomarco e poi confrontiamo con chi i colleghi di Nica hanno fatto dei limiti di sito specifici di caratterizzine la caratterizzazione di Sine sono state riportate stamattina dal nostro Presidente ma sono limiti di sito specifici non abbiamo una visione generale che la strategia marina credo dovrebbe considerare grazie allora posto che mi dispiace che il capofila della tavola 4 purtroppo non è romano quindi ha avuto problemi poi non so se i colleghi dell'ISPRA che erano presenti al tavolo 4 vogliono dire qualcosa io ci stavo ma diciamo che non credo di avere l'approfondimento scientifico necessario per andare a fare un discorso complessivo il problema dei limiti è un problema normativo più che di monitoraggio che ci siano delle carenze sulla normativa lo sappiamo bene ci scontriamo in continuazione abbiamo limiti per quanto riguarda tutto il discorso dell'immersione in mare dei sedimenti dragati per la caratterizzazione di alcune aree però in questa occasione noi dobbiamo differenziare tra quelli che sono la definizione di limiti che è un aspetto normativo da quello che è attività di monitoraggio che sono attività di conoscenza allora la filiera è senz'altro che sulla base delle conoscenze e dei numeri che ci daranno le attività di monitoraggio avremo informazioni che servono per mettere informazioni aggiuntive come ove adesso ne mancassero per mettere quei limiti ma i due passaggi non sono uguali non sono la stessa cosa quindi noi abbiamo una serie di informazioni importanti appunto adesso magari Anna Maria Cicero qualche cosa di più dovevo dire delle informazioni importanti già sulla contaminazione dei nostri sedimenti in alcune aree quando stamattina illustravo gli ambiti in cui pensiamo di svolgere il prossimo programma di monitoraggio che stiamo mettendo a punto che sarà un programma che sarà proprio a coprire quegli ambiti non coperti attualmente normativa ho indicato che il problema della contaminazione chimica soprattutto dei sedimenti ma anche degli organismi bentonici a largo è un problema fondamentale è una carenza fondamentale per il nostro paese e proprio per quello è uno dei focus che abbiamo messo nel programma di monitoraggio però poi il discorso di fissare dei limiti e delle norme è leggermente diverso si avvale dei risultati del monitoraggio ma non è il programma di monitoraggio non so se Anna Maria forse ha partecipato volevo tanto dire riprendendo quello che è una cosa è derivare dei gesti quindi un buono stato ambientale che è fornito dall'impegazione diciamo della qualità sui sedimenti ma anche dell'acqua di odioca rispetto a questo punto la valutazione iniziale ha identificato dei gap e delle aree su cui esistono delle pressioni le pressioni devono essere misurabili e misurare le pressioni vuol dire risalire dal tipo di contaminazione che arriva diciamo da terra e che serve diciamo a dare l'incorramento della valutazione e quindi a fissare quali sono le azioni che devono essere queste in campo per integrare la valutazione con i dati mancanti quindi questo è lo scopo della Sardegna di Omerina detto questo la 2060 e il decreto 152 del 2006 dei limiti per quanto riguarda le sostanze prioritarie e le sostanze pericolose prioritarie di fissa sui sedimenti ora questo può essere considerato come dire ancora insufficiente sta per essere entrare in vigore la nuova direttiva che fissa sul biota che fissa dei valori sul biota certo arrivare come dire anche a dare delle indizioni sui 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 valori che potrebbero essere proposti come limiti rispetto a un buon stato ambientale sarà l'obiettivo in cui arriveremo come diceverà nei primi anni di migraggio i limiti ci sono per i sedimenti riguardano lo stato chimico e riguardano l'applicazione dell'anno 60 sul coschero ok grazie grazie io direi visto che prego ah scusi dottor prego questo è un'ottima di amparitura che faceva parte della piattaforma 4 quindi ho lavorato a questo piano di monitoramento noi ci siamo concentrati soprattutto su quello che sulle assenze cioè quello che non si sa perché quello che noi il monitoraggio lo facevamo da tanti anni prima nell'ambito della 1979 poi nell'ambito della 1952 e quindi soprattutto in ambito costiera le informazioni ne avevamo parecchie quello su cui non avevamo informazioni erano per esempio gli impatti derivanti dall'acocultura e su questo per esempio ci siamo concentrati altre cose per esempio non sapevamo e non viene fatto da nessuna parte un monitoraggio sistematico relativo per esempio all'invinamento derivato dalla deposizione atmosferica che non è affatto costruabile e che soprattutto a largo potrebbe essere poi all'affettiva quasi al principale tutto e un altro campo per esempio sulle adesso in Italia non ne abbiamo moltissime ma non è detto che poi non ce ne siano sull'impatto derivato dall'attività offshore nonché dai trasporti ma vittime anche su quello soprattutto da una parte all'arco non abbiamo nessun tipo di formazione quanto meno a un sistema estero quindi su questo ci siamo soprattutto concentrati e quindi naturalmente poi bisogna vedere come si realizzeranno queste cose soprattutto che le faranno perché sono attività estremamente costose e noi dovevamo tenere conto questo nessuno l'ha detto ma è stato chiaro fino all'inizio da un fatto con le risorse realisticamente a disposizione quindi mettere giù dei programmi nel miglior modo possibile che cosa bisognerebbe fare ma anche tenere punto poi della realtà quindi di conseguenza su questo abbiamo molto gioco limitare anche pochi possibilitari ci vede noi come monitoratori dell'ambiente e ancora di più istituti di ricerca licenziati ricercatori arrivano scusate posso aggiungere mi raccomando qui andiamo a prendere l'argomento è interessato appassionante però parliamo sul tempo della presentazione di Mazzola quello che volevo dire è che tutto sommato poi dalla valutazione iniziale quello che è emerso è che sulla qualità del sedimento sulla qualità chimica tutto sommato si hanno delle informazioni i veri sono ad esempio quelli sulle risposte degli organismi quindi del biota al livello di contaminazione quindi tutto il discorso dei biomarker e dell'associare la risposta biologica a un dato tipo di contaminante quello per esempio è un aspetto assolutamente da approfondire perché si è visto che questo tipo di correlazioni che la strategia marina richiede di affrontare purtroppo non è stato possibile farlo sulla base dei dati esistenti la strategia marina non chiede di fissare i dati esistenti posso ribattere o una battuta al volo sennò diventa una cosa ispra per ispra diventa un po' stucchevole prima di dare la parola al collega Montanaro per quanto riguarda la presentazione dei questionari nel ringraziare anche per gli interventi gli interventi danno appunto l'idea di un work in progress il lavoro non è chiuso c'è tanto da fare soprattutto i colleghi che hanno modo poi all'interno dell'istituto del ministero di scambiarsi idee e opinioni anche per iscritto li prego di farlo e di mettersi direttamente in contatto in modo che queste problematiche vengano poi portate nel tavolo tecnico tra virgolette giusto e si possa affrontarle in maniera compiuta anche per dare risposte che magari anche a chi lavora tutti i giorni su queste tematiche possono in qualche modo situazioni che possono in qualche modo sfuggire grazie riprendo per impostare un po' la proposta in questo modo avete sentito anche se in modo parziale per la mancanza di alcuni dei referenti quelli che sono i contenuti principali dei programmi di monitoraggio articolati nelle famose sette piattaforme è chiaro che non è facile trovare l'equilibrio come dicevo prima tra un dettaglio descrittivo che fosse sufficientemente significativo per chi legge e però anche un approccio linguistico e descrittivo che non fosse troppo ostico per chi non è addetto ai lavori per questo per noi è molto importante e qui mi rivolgo soprattutto in questa sala a chi non è strettamente e ufficialmente connesso all'attività della strategia marina di vedere se il percorso che abbiamo scelto per la consultazione pubblica è in qualche modo accettabile e soddisfacente o se ci sono delle difficoltà di comprensione dei suggerimenti delle carenze che potrebbe essere utile per noi acquisire anche per poterne far tesoro magari non in termini di modifica in corso d'opera però sicuramente nella valutazione poi dei risultati finali quindi se Leonardo ci fa partire questo è il diciamo la pagina introduttiva sulla consultazione pubblica vai vai sì la sì 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 un balletto migliore sarebbe io non sono un buon balletto su questo Leonardo più che altro diciamo se volete presentare nel senso che io se avete vi porto direttamente alla scheda era giusto per dire io penso che il tempo sia abbastanza ridotto quindi andiamo alla consultazione in modo che il ciclo di una legge consulta la redditore e fare il questionario allora sostanzialmente però come è stata costruita la consultazione è stato messo diciamo nel pacchetto che viene offerto per chi entra nella consultazione una serie di documenti che servono a capire su che cosa si pongono le domande cioè il contenuto della consultazione che quindi è la sintesi dei programmi di monitoraggio che è quello di cui abbiamo parlato fino adesso su questo prodotto cioè sulla sintesi descrittiva dei programmi di monitoraggio è stato sviluppato un questionario che ha un duplice scopo sia quello indirettamente di capire se questa descrizione dei programmi di monitoraggio è tra virgolette calibrata e centrata rispetto a quelle che sono le esigenze del pubblico di avere sufficienti informazioni ma sufficientemente diciamo semplici e chiare e dall'altra appunto di dare la possibilità di interagire su questa proposta in modo da dire se in che misura la considera azzeccata completa invece critica mancante di qualche parte in modo che poi noi possiamo sintetizzare questi risultati e poter adeguare la proposta finale dei programmi di monitoraggio a questi suggerimenti quindi ecco su questo io penso che sia abbastanza diciamo la prima parte ovviamente è una parte che serve a identificare i soggetti perché poi la nostra intenzione è anche quella di fare dei raccorpamenti per tipologia sia geografica che diciamo funzionale per capire poi se ci sono al di là del complesso di risposte dei messaggi che sono prevalenti per determinate categorie di soggetti o per determinate aree in particolare le sottoregioni in modo da poter avere non una risposta complessiva ma calibrare poi eventuali adeguamenti nel modo più preciso possibile mi sta venendo il mal di mare a questo punto uno mette dentro del facciamo però questo poi non è un beta quindi questo più di tanto non possiamo allora per i prossimi eventi così lo dico in diretta dovremmo preparare un modulo offline di simulazione in modo che possiamo scorrere il questionario e discutere senza doverlo in qualche modo compilare altrimenti c'è la si fa? perfetto allora facciamo come dire una simulazione qui possiamo mettere l'ISPRA prima di passare alla schermata successiva ovviamente poi ci fermiamo e vediamo un attimo allora io mi fermerei un attimo perché le prime tre domande sono di identificazione c'era qualcuno che aveva una domanda la prima domanda riguarda la tipologia di ente o struttura di appartenenza e serve identificare appunto la tipologia di soggetto che partecipa al questionario c'è un menu a tendina in cui abbiamo elencato ovviamente non singoli soggetti ma tipologie che ne so enti di ricerca università associazioni di categoria associazioni di consumatori e altro come voce residuale la seconda domanda ovviamente è la denominazione dell'entrostruttura di appartenenza nel caso non si sia un singolo cittadino perché nel quale caso non c'è bisogno di metterlo qui però bisogna in qualche modo non so come funziona se io clicco altro poi devo comunque mettere la domanda obbligatoria e allora che cosa metto il mio nome? potrebbe anche essere altro però denominazione dell'entrostruttura di appartenenza se è obbligatoria altro anche qua quindi non è ento struttura di appartenenza questo per esempio è un chiarimento importante no 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 perché poi se ci chiedono se io sono un privato cittadino nella domanda 2 che cosa devo mettere perché lì si parla di ento struttura di appartenenza quindi bisogna mettere comunque altro perché non è né un ente né una struttura di appartenenza questo questo l'abbiamo messo per dare un'identificazione geografica proprio perché ricordiamoci che l'idea sarebbe soprattutto a livello di sottoregioni fare degli accorpamenti dei raggruppamenti in modo da valutare se ci sono delle tendenze dei filoni di risposta per categoria e per area geografica questa serviva semplicemente a identificare chi partecipava alla consultazione scusate poi la domanda 4 è una domanda possiamo dire preliminare come valuti l'importanza di una specifica direttiva comunitaria mirata a conseguire o mantenere entro il 2020 il buono stato ambientale del mare e dei suoi fondali che tradotto in modo più sintetico è quanto è importante che ci sia un specifico strumento di governo che ha l'obiettivo di garantire per il 2020 un buono stato ambientale dei mari e qui abbiamo scelto di fare una gamma di possibili posizioni da fondamentale importante irrilevante o non so speriamo che nessuno clicchi non so e ovviamente in tutte le domande abbiamo anche dato modo di inserire un commento libero perché così se c'è un contributo come dire più specifico c'era la possibilità di inserirlo la domanda 5 abbiamo messo come consideri il percorso istituzionale partecipato e condiviso che ha condotto all'elaborazione dei programmi di monitoraggio ai soggetti coinvolti finora è evidente che per rispondere a questa domanda si deve prima andare a vedere il pacchetto informativo che è allegato alla pagina del questionario perché altrimenti non si conosce ciò di cui stiamo parlando cioè qual è questo percorso istituzionale quali sono i soggetti istituzionali coinvolti questo si può sapere andando a leggere quel documento di descrizione a questo punto non avendolo letto cliccando sul link automaticamente ci si rinviene o al percorso istituzionale o ai soggetti coinvolti in modo che a questo punto questo per noi è molto importante perché come dicevamo siccome il discorso di partecipazione e condivisione è l'elemento fondamentale sapere se quanto abbiamo fatto è 100% 50% 30% o cos'altro accettabile attraverso una gamma di pareri ed eventualmente avere dei suggerimenti per noi è un elemento fondamentale proprio per tarare il discorso della partecipazione in particolare abbiamo ritenuto che fosse importante dare la possibilità e qui mi riferisco per esempio alle osservazioni fatte prima dalla persona che ha fatto il quesito sull'istakeholder di dare dei suggerimenti su eventuali ulteriori categorie specifiche di interlocutori che possiamo non aver inserito nel percorso istituzionale descritto nel documento di riferimento in modo da poter valutare se effettivamente si è opportuno inserirlo o magari è stato già inserito ma fa parte di un blocco che non lo rende visibile ma comunque c'è in termini di partecipazione questa è forse la domanda più complessa ma più importante perché sempre facendo riferimento e c'è il link a quella che è la struttura della strategia marina che è articolata in 11 descrittori qualitativi cioè in 11 caratteristiche dell'ambiente marino ciascuna delle quali ha una sua specificità e fa parte di ciò che deve essere presente a certi livelli per avere un buono stato ambientale diciamo delle acque marine quindi sono 11 elementi qualitativi che sono qua descritti ciascuno di questi vi abbiamo senza andare a complicare troppo la vita semplicemente dando una descrizione sintetica di che cosa sono perché se uno per esempio dice ma che cosa è una rete trofica allora va a vedere il collegamento e in modo sintetico capisce che cosa si intende per rete trofica il senso è in una gamma da 1 a 5 oppure nessuna risposta dare la possibilità di farci capire su questi elementi qualitativi del buono stato dell'ambiente marino quali siano più importanti meno importanti proprio per poter meglio tarare quelle che sono le nostre priorità nel momento in cui individuiamo gli obiettivi ambientali quindi è una matrice su cui si clicca per ogni riga su uno dei diciamo il mio dubbio è del tipo il tuo dubbio sì il dubbio diciamo qual è il valore massimo cioè volendo dare tipo a abito di diversità il massimo ad esempio devo cliccare 1 o 5 uno a caso uno a caso è la prima della lista questo vedi questi sono esattamente come dire i test sul campo che noi dobbiamo applicare per chiarire ogni dubbio quindi così come prima abbiamo detto altro su enti di appartenenza io direi c'è anche nessuna risposta però diciamo chiaramente su 5 classi un ente di bisogna probabilmente fare una piccola integrazione per chiarire qual è la graduazione cioè se uno è più importante o se 5 è più importante perché teoricamente la cosa migliore sarebbe quella di avere il 5 come valore massimo perché automaticamente uno può chiedere al sistema poi di fare una somma e il valore maggiore vuol dire che la persona nell'insieme ritiene a tutti importanti piuttosto che non lo so ecco era giusto mi sembra sembra ovvio che sia così eh lo so però che sia ovvio non vuol dire che sia ciò che è quindi per sicurezza è meglio è meglio confermare è giusto diciamo da eventualmente da aggiungere una politica uno minimo 5 massimo la leggenda ecco da mettere giusto la leggenda su io scusate io piano piano e con cautela ma vado avanti se non vedo che c'è qualcuno che vuole qualche chiarimento o intervenire su questo pacchetto di domande eh poi la successiva e ne abbiamo già parlato ampiamente nell'illustrazione chiede se abbiamo fatto come dire una mossa giusta nell'articolare come filosofia di riferimento delle strategie marine le acque marine nelle tre sottoregioni marine che appartengono all'Italia quindi l'Adriatico il Mediterraneo occidentale e il Mar Ionio questo per garantire un equilibrio tra specificità dei mari però senza parcializzare troppo una situazione in cui non è che possiamo avere il mare dell'Abruzzo il mare della Sardegna il mare del Lazio il mare della Campania quindi su questo abbiamo chiesto se questa se questo diciamo approccio è corretto condivisibile oppure no e anche in questo caso la possibilità di fare un commento o un suggerimento questa domanda è un po' una domanda che riassume diciamo il senso della proposta e cioè abbiamo descritto nelle precedenti domande le premesse e quali sono in realtà le priorità della strategia marina e del monitoraggio e quindi sempre facendo riferimento ai programmi di monitoraggio e qui forse sarebbe meglio rimettere il link laddove c'è scritto programmi di monitoraggio la domanda come si dice da 100 milioni è premesse le domande e le vostre risposte precedenti i programmi di monitoraggio che vi abbiamo sinteticamente descritto ritenete che per come sono stati organizzati siano adeguati a conseguire questi risultati è una domanda ovviamente che richiede una certa elaborazione mentale però oggettivamente è una di quelle che noi dobbiamo tenere presente in modo adeguato siccome la domanda non è facile abbiamo anche qui scelto sia la possibilità di dare un'indicazione sintetica sì no non lo so eccetera eccetera oppure di inserire un commento che poi può essere elaborato e sintetizzato a valle dei risultati del questionario su questo avete osservazioni no vado avanti avete detto che c'è tutta la banca dati collegata sì sì stiamo dicendo che nella pagina iniziale ma stiamo anche rimettendolo con i link c'è la possibilità cliccando sull'iperlink di andare a vedere qual è il pacchetto informativo banca dati e sintesi che può essere diciamo verificato e letto per poter dare una risposta consapevole alle domande del questionario questa domanda in particolare come dire è quasi rivolta un po' al mondo scientifico se vogliamo perché come abbiamo detto una parte consistente di attività di monitoraggio sono già realizzate attualmente e devono essere non vorrei dire semplicemente ma sostanzialmente messe insieme e coordinate però ci sono notevoli ancora lacune che devono essere colmate quindi una domanda importante è rispetto alle lacune che sono emerse nella valutazione iniziale i programmi di monitoraggio in particolare le attività di monitoraggio nuove aggiuntive sostanzialmente riescono ad affrontare e colmare queste lacune o ci sono degli aspetti importanti di lacune che non sono stati compresi nella strutturazione dei programmi di monitoraggio che stiamo realizzando anche qui c'è sempre la possibilità di una risposta sintetica oppure di un commento è ovvio che poi e questo lo potremmo forse in qualche modo mettere se la risposta è no nel senso che i programmi di monitoraggio non vanno nella direzione di colmare le lacune mi aspetto di avere nel commento una sintetica spiegazione del perché non condivido queste impostazioni altrimenti mi rimane la curiosità di sapere questo giudizio critico da che cosa nasca quindi su questo magari se riusciamo anche nel caso di risposta negativa si invita a fare un sintetico commento di spiegazione questa invece la domanda 11 non ce ne sono ancora molte affronta un nuovo tema che è quello della cooperazione internazionale per la predisposizione della strategia marine proprio perché così come non è sensato avere una strategia regionale per esempio delle acque marine non lo è altrettanto avere una strategia marina che è esclusivamente concentrata e mirata sulle acque nazionali visto che il mare ovviamente non conosce limiti specifici di barriere giuridiche o nazionali e quindi la domanda è quella di capire quanto l'organizzazione dei programmi di monitoraggio è importante sia condivisa e portata avanti insieme agli altri paesi che condividono le stesse sottoregioni e quindi avere il senso dello sforzo che deve fare l'Italia per organizzare per esempio campagne congiunte nell'Adriatico con la Croazia la Slovenia con la Grecia più a sud anche in questo caso abbiamo sviluppato una graduazione di questa valutazione un po' più articolata fondamentale importante e rilevante e la possibilità di inserire un commento questo è importante soprattutto penso a soggetti istituzionali che per vocazione naturale hanno la mission di interloquire con soggetti internazionali che ne so nell'Adriatico tutta la parte alta da Trieste a Venezia che ha scambi costanti e continui con altri paesi se e come possa aiutarci a rafforzare la determinazione dell'impegno a interloquire con questi altri soggetti internazionali per avere dei programmi di monitoraggio che siano comuni per sviluppare ulteriormente questo questo elemento abbiamo ricordato quali sono i principali soggetti con i quali attualmente abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando programmi di monitoraggio coordinati e congiunti li abbiamo elencati sinteticamente per dare la possibilità a chi per rispondere al questionario di dare una valutazione sull'importanza di questi soggetti li abbiamo ovviamente accorpati al massimo quindi abbiamo messo l'Unione Europea le altre convenzioni internazionali e regionali come per esempio la convenzione di Barcellona che è la convenzione che gestisce la protezione dell'ambiente di tutto il Mediterraneo accordi bilaterali e multilaterali che vuol dire accordi paesi paesi oppure paesi paesi ma non nell'ambito di strutture internazionali e poi organismi tecnico-scientifici internazionali che ovviamente non sono normalmente elementi istituzionali ma sono meccanismi scientifici di coordinamento sovranazionale che però hanno un importantissimo ruolo per quanto riguarda la definizione della conoscenza di base per i monitoraggi a chi scrive chi non so organismi tecnico-scientifici perdono a proibili di internazionali e ramo oce perché uno a caso non è proprio quello che hanno messo c'è la possibilità di indicare quali non so per esempio scientifici internazionali allora qui probabilmente abbiamo avuto un piccolo come dire salto tra quello che avevamo detto e quello che è stato fatto perché qui più o meno invece quello doveva essere non l'indicazione di specifiche categorie ma semplicemente eventuali suggerimenti perché comunque vabbè tra sei anni lo scriveremo meglio tra sei anni lo scriveremo meglio però a me sembra abbastanza chiaro andiamo avanti dobbiamo chiudere che non ci l'ultima domanda è una domanda residuale che serve a come dire dare la possibilità di fare commenti che non sono legati alle domande precedenti perché ovviamente sono domande sintetiche sono domande un po' riassuntive e quindi per catturare quelle che possono essere elementi che non erano presenti diciamo nelle precedenti domande è chiaro che questo è innanzitutto un tentativo perché non è facile ridurre a una accettabile semplicità un elemento complesso come i programmi di monitoraggio della strategia marina pensiamo che sia un approccio ripeto abbastanza equilibrato tra semplicità e capacità di comunque fornire degli elementi utili soprattutto dai non addetti ai lavori perché ripetiamo per gli addetti ai lavori ci sono tanti altri canali istituzionali e informali che ci permettono di interlocuire con loro in modo più strutturale e sistematico quindi questa è un po' la presentazione del questionario ripeto ancora se ci sono osservazioni e domande da parte soprattutto dei non addetti ai lavori che quindi potrebbero trovarsi nella posizione di doverlo redigere e quindi capire esattamente quello che stanno facendo sono le benvenute altrimenti io non avrei finito domanda prego grazie io sono Elsa Danasti lavoro per il CIS per il Centro Italiano dice che studi per la pesca è di fatto la struttura tecnica della fede per pesca quindi oggi sono in peste di seconda e ritengo che ogni punto come quello che avevo fatto stavolta la mattina sia estremamente importante però forse è opportuno che per i prossimi incontri che vedete sia dato più spazio agli ambiti che interessano maggiormente gli stakeholder quindi oltre alla biodiversità e così via mi sembra un po' ridottivo che oggi non sia stato affrontato per esempio il tema della pesca perché noi nel nostro piccolo realizziamo attività di monitoraggio e quindi vedere nello specifico dove ci sono dei gappi non scenditi sarebbe stato effettivamente inutile quindi questo diciamo soltanto un'osservazione così per i prossimi punti perché la consultazione viso a viso secondo me è fondamentale grazie io sono loro di monitoraggio per il garantire un piano di azione qui stiamo solo a un'attività di monitoraggio degli elementi fisici chimici e quant'altro fauna e quant'altro dell'ambiente quindi è un programma di monitoraggio ambientale sul mare io come dire non è la propria strategia dell'ambiente che non è la strategia dell'ambiente ma è un piano di monitoraggio di elevazione e controllo ambientale punto una cosa molto limitosa una cosa che non c'è bisogno per cui io proprio parlo a tutte le strutture della città a partire dalle diciamo dalle strutture sindacali impegnate sulla posta al settore della pesca al settore del disinquinamento al settore del lavoratore e quant'altro io dico non andare non partecipare a questa cosa scriverò ai sindacalisti ai lavoratori del settore della ricerca dei lavoratori e quant'altro ma quindi io adà che non ci azzecca niente proprio con un discorso della strategia dell'ambiente ma questo è un modo come dire di parlarsi chiaro nessuno chiede c'è per cui se il ministro dell'ambiente quando fa le cose possibilmente apre prima un confronto è precisa le cose che vuole fare è benigliosissimo questo programma di acchiavolo per quello che è ma non strategia dell'ambiente a me tutt'altra cosa mi dispiace per cui chiarezza per chiarezza quindi c'è che parla di allora per quanto riguarda poi lascio la conclusione ai colleghi del ministero fatta salva poi la parte finale in cui chiederò ai colleghi del ministero Emi di illustrare gli appuntamenti di questa sessione oppure sì Oliviero Irene possono farlo tranquillamente nelle prossime settimane per quanto riguarda Ispra nel suo ruolo di supporto tecnico anche sui temi della comunicazione noi siamo assolutamente disponibili e pronti a recepire eventuali indicazioni che dovessero provenire rispetto sia all'organizzazione di ulteriori momenti di comunicazione anche specifici rivolti diciamo a settori a liste cold sul piattaformo su descrittori specifici sia evidentemente da un punto di vista tecnico per implementare la parte tra virgolette strategica rispetto alla parte monitoraggio la parola ai colleghi del ministero dell'ambiente io sugli aspetti ho già detto io mi sono distratta però vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che in questa occasione online abbiamo messo tutte le informazioni derivanti dalla banca dati che sta presso l'Ispra in cui sono confluiti tutte informazioni e dati derivanti dai vari monitoraggi e soprattutto tutti i documenti e i dati a supporto della valutazione iniziale quindi tutte i gap che noi abbiamo evidenziato e sulla cui base abbiamo avviato quest'opera di programmi di monitoraggio lì ci sono e abbiamo fatto un lavoro abbiamo diciamo abbiamo chiesto a Ispra e Ispra ha fatto un lavoro straordinario di mi viene da dire volgarizzazione cioè di preparare delle interfacce grafiche che rendano possibile la consultazione di questi dati che sono in molti casi dei dati abbastanza complicati perché sono dati che derivano da ricerche di ambiti differenti andiamo da tutti i dati del monitoraggio marino finanziato dal ministero negli ultimi 15 anni all'applicazione della 2060 e altri dati su osservazioni fonistiche eccetera allora tutti questi dati ci sono e io vorrei evidenziarlo perché secondo me è un'operazione straordinaria che è stata fatta uno dei problemi importanti di questo paese è il problema di avere pochi dati disponibili cioè in realtà gli open data sono una grossa carenza di questo paese allora se per una volta siamo riusciti a metterli a disposizione e quindi noi non parliamo di gap senso lato ma parliamo di gap con un link che manda alla banca dati allora questa è una cosa che ci tenevo a rievidenziare che probabilmente si attacca anche a quello che diceva lei per quanto riguarda scusa degli eventi particolari noi allora intanto abbiamo chiesto a tutti i membri del comitato tecnico quindi a tutte le manifestazioni centrali e le regioni di farsi promotori non solo dell'informazione ma anche dell'eventuale di organizzazione di eventi specifici e se ne organizzasse il Mipaf qualche cosa noi non è che saremmo contenti di più in più abbiamo chiesto agli organizzatori alle regioni capofila delle sottoregioni in cui si svolgeranno gli eventi periferici di porre particolare attenzione non solo alle problematiche peculiari di quella sottoregione ma agli stakeholders legati a quelle problematiche e quindi gli verranno inviate le comunicazioni e sarà graditissima la presenza dei stakeholders che forse a livello locale hanno più senso di quanto non ne abbiano poi a un livello così generale Sì io invece risponderò all'altro intervento innanzitutto ovviamente come abbiamo detto stamattina questo è un processo molto lungo molto complesso ben lungi dall'essere perfetto è un processo che per sua natura è un processo ciclico ogni sei anni si ricomincia ogni sei anni si riproduce il percorso per andare sempre più verso un perfezionamento dei risultati della strategia marina che è una strategia perché quello di cui noi oggi stiamo presentando diciamo il contenuto è un tassello piccolo di quello che è il processo generale che mi permetta di ricordarle noi siamo partiti da una valutazione di quello che è la situazione dell'ambiente marino allo stato attuale che è stata fatta nel 2013 e che è stata messa adesso a disposizione del pubblico questa valutazione comprende anche elementi di impatto e di pressione socio-economico il degrado dell'ambiente marino tutti elementi che dal punto di vista dell'apparato economico sono fondamentali perché se non si sa da dove si parte se non si sa quali sono i rischi quali sono le criticità non soltanto ambientali ma anche dal punto di vista produttivo ed economico è chiaro che non si può reagire poi come abbiamo ricordato stamattina abbiamo fissato quali possono essere gli obiettivi per il 2020 cioè la strategia è siamo qua non ci piace per questo 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 motivo vogliamo arrivare entro il 2020 da quest'altra parte questa è la la lampiezza di questo percorso da oggi al 2020 è quello che dobbiamo controllare con i programmi di monitoraggio quindi i programmi di monitoraggio non servono a risolvere di per sé un problema ma servono a controllare valutando una serie di indicatori se ci stiamo avvicinando alla soluzione del problema oppure no come si risolvono i problemi questa è la successiva fase che sono i programmi di misure cioè quelle che sono le azioni concrete che a livello nazionale dovranno essere assunte affinché quelli che sono i traguardi per passare da una situazione di oggi che non è soddisfacente per tutta una serie di motivi non solo ambientali ma anche socio-economici a una situazione che noi riteniamo accettabile quindi questi programmi di misure sono le azioni concrete che dovranno essere definite e condivise entro la fine del 2015 e che sono poi l'apporto tra virgolette innovativo per la strategia quindi la sua osservazione come dire è limitata soltanto a questa fase ma non è la strategia in sé di cui stiamo parlando lei dovrebbe proprio in base al pacchetto di informazioni che è stato messo a disposizione riuscire ad avere una visione complessiva di questo percorso che è un percorso di circa otto anni per arrivare al 2020 e su questo ovviamente siamo disponibilissimi a come dire a interagire soprattutto con gli stakeholder che non sono soltanto le associazioni di impresa ma anche le associazioni di lavoratori ovviamente che sono poi degli utilizzatori primari del settore mare anche perché uno degli obiettivi del fatto di avere un percorso ciclico è che i risultati e le criticità di un ciclo vengono poi tenute in considerazione per migliorare in quello successivo se 11 descrittori qualitativi sono troppi li ridurremo se sono pochi li aggiungeremo se vanno spostati li cambieremo se c'è da tener conto maggiormente di un aspetto ambientale o di un aspetto socio-economico tutti questi elementi saranno presi in considerazione per il prossimo ciclo perché la strategia marina è un meccanismo permanente non è un esercizio una tantum è un approccio strategico complessivo proprio perché nel medio periodo sicuramente non nel 2020 ma magari nel 2050 sì ci sia alla fine una situazione dell'ambiente marino italiano e unionale europeo che non soltanto è ambientalmente migliore ma è anche accettabile e sostenibile nel medio e lungo periodo dal punto di vista socio-economico che è altrettanto importante rispetto a quella che è la tutela ambientale ora io non pretendo di tra virgolette convincerla con queste poche parole però la invito a voler come dire investire un po' del suo tempo nell'approfondire un po' meglio dei documenti che abbiamo messo a disposizione dopodiché anche a livello personale sul sito del Ministero dell'Ambiente se ha dei quesiti delle osservazioni o anche delle criche da effettuare noi siamo ovviamente disponibilissimi a prenderle in considerazione anche al di fuori della forma del questionario per poter poi migliorare la nostra diciamo la nostra reazione grazie bene direi che possiamo concludere i nostri lavori senza però prima aver ringraziato tutti coloro che hanno partecipato e che ci hanno seguito anche via web coloro che hanno organizzato questa giornata coloro che stanno lavorando al tema generale della strategia marina e vi assicuro sono tanti e vi assicuro sono veramente bravi nei settori di competenza voglio ricordare che questa iniziativa della consultazione pubblica o popolare come più piace allo Presidente De Bernardinis vivrà anche ulteriori momenti nelle prossime settimane lunedì 23 a Livorno prego ecco allora ditemi di voi perché come allora il 20 ci sarà a Cesenati con iniziativa pubblica il 23 ci sarà a Livorno a Livorno parteciperà il sottosegretario Velo e l'ultima il 30 giugno a Palermo detto questo poi tireremo le fila ovviamente di questo primo momento che ovviamente come è stato anche ribadito precedentemente non esaurisce ripeto non esaurisce il tema del confronto con stakeholder operatori e cittadini che proseguirà durante poi tutto il corso ulteriore del nostro lavoro credo che per oggi possiamo chiudere qui i lavori chi vuole trattenersi credo sopra sia possibile bere un bicchiere d'acqua ancora grazie ancora grazie anche alla società alla società geografica che ci ospita e che come al solito con grande disponibilità mette scusate il gioche però a disposizione questa bellissima e prestigiosa location grazie non ho voluto dire del tratto